Un caso di tutela ambientale che sta diventando un caso politico. Le associazioni ambientaliste di Pesaro non ci stanno ad assistere a quello che definiscono un altro scempio ambientale, ovvero quello dei 126 alberi destinati ad essere abbattuti per realizzare il nuovo impianto sportivo della pista ciclorotellistica che sorgerà in zona torraccia. 126 alberi, 72 dei quali risultano specie tutelate, ovvero una cifra completamente diversa da quella modesta ventilata in approvazione di progetto. Attraverso un comunicato ufficiale, le associazioni Gruppo Zero, la Lupus in Fabula, CAI, Lipu, Ona, Enpa, Secu, Hauser, Grig e Zero Waste diffidano il comune da proseguire con un progetto che si smarca dalla sostenibilità ambientale professata dall'amministrazione, associazioni che puntano a verificare l'iter autorizzativo e non escludono di presentare il ricorso al TAR o segnalare il caso agli organi competenti per l'erogazione di fondi PNRR. L'amministrazione comunale dal canto suo difende la bontà del progetto. Gli assessori Pozzi e della Dora, attraverso un comunicato, hanno ricordato oggi come la pista sorgerà in una zona molto ampia di 105.000 m2, ovvero come 16 campi da calcio. Fino a pochi mesi fa quella stessa area non era fruibile, era completamente abbandonata, ma grazie all'avvio dei lavori verrà riqualificata. L'abbattimento degli alberi, ricordano gli assessori, sarà limitato alla realizzazione della pista e quindi una pianta ogni mille metri quadrati con una densità bassissima. Una vegetazione che ricordano i due assessori è spontanea, selvatica e nata dall'abbandono dell'area negli ultimi dieci anni. Assessori che ricordano anche come sarà condiviso con la consulta il progetto di ripiantumazione e in fase di esecuzione sarà posta attenzione nel cercare di ridurre gli abbattimenti. Per l'assessora alla sostenibilità Maria Rosa Conti invece i temi ambientali sono diventati un aspetto centrale per l'ente locale e non può esserci più una retorica per cui riguardano solo gli ambientalisti. La Conti invoca una governance seria ed esperta per sviluppare questi aspetti e tramutarli in progetti come quello di un impianto sportivo finanziato dal Ministero che ha una forte valenza di benefici sociali, sportivi e salutistici.